Ha sferrato calci e pugni contro gli agenti del commissariato di Fano. Uno di loro è stato colpito ed è finito all'ospedale. Protagonista dell'episodio, un diciottenne fanese, già noto alle forze dell'ordine, fermato sabato pomeriggio alla Rocca Malatestiana. I poliziotti, infatti, stavano eseguendo i controlli nel centro storico per prevenire gli atti di vandalismo, dispaccio e le risse, in particolare da parte dei giovani. E una volta giunti al monumento cittadino, hanno notato un gruppo di ragazzi che si era radunato. Alla vista degli agenti, alcuni di loro si sono dispersi, ma in dieci sono stati identificati e tra questi c'erano anche minorenni. A terra, inoltre, sono state rinvenute bottiglie vuote, molte gettate anche sui binari ferroviari sottostanti le mura. Durante gli accertamenti, poi, il diciottenne si è mostrato in evidente stato di alterazione alcolica e si è scagliato con violenze fisiche e verbali contro le forze dell'ordine. Per questo, i poliziotti coordinati dal dirigente Stefano Seretti lo hanno arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per ubriachezza in luogo pubblico. L'agente colpito, invece, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari al pronto soccorso del Santa Croce di Fano. Ha riportato diverse lesioni e se la caverà con sei giorni di prognosi. Il giovane, posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida, ieri si è allontanato nuovamente dall'abitazione, così la polizia ha dovuto arrestarlo di nuovo per il reato di evasione. Il diciottenne è stato trattenuto in commissariato in attesa del processo e oggi l'arresto è stato convalidato. Il ragazzo è stato condannato a un anno e otto mesi, un anno per resistenza e otto mesi per evasione. La pena, però, è stata sospesa ed il diciottenne è già libero. Infine, gli agenti hanno svolto i controlli anti-covid in collaborazione con i carabinieri, la guardia di finanza, la capitaneria di porto e i vigili urbani. In particolare, dopo una prima fase di sensibilizzazione dei titolari, gli operatori sono passati alle verifiche nei locali della città. Oltre alla chiusura del bar di via Ugolino dei Pili, i poliziotti hanno elevato 3.333 euro di multa ad un 22enne del posto perché sorpreso a urinare sulla stessa via nelle vicinanze di un locale pubblico. Al giovane sono stati contestati gli atti contrari alla pubblica decenza.